In questi giorni, con il Natale alle porte, è in aumento il fenomeno dei finti corrieri che consegnano pacchi e scatole vuote chiedendo un pagamento in denaro. La truffa dei pacchi fantasma, avverte la polizia di Stato sulla propria pagina Facebook, una vita da social, è stata segnalata negli ultimi giorni da alcuni cittadini a Firenze che hanno denunciato diversi tentativi di raggiro. Il modo da agire è consolidato. Il finto corriere contatta telefonicamente una persona e con la scusa di doverle consegnare un pacco chiede per il ritiro cospicuo e somme di denaro. I pacchi, però, neanche a dirlo, sono vuoti. Per non cadere nella truffa, la polizia di Stato raccomanda di segnalare ogni episodio di questo tipo.